Stefano De Martino sembra aver, ri, trovato un antico amore. Dopo la conclusione della sua relazione con Belen, De Martino ha dedicato alcuni mesi a se stesso e al figlio Santiago, prendendosi una pausa dalle relazioni sentimentali. Tuttavia, sembra che lo stato di single di Stefano sia ora definitivamente superato, poiché il conduttore di, Barstella, avrebbe ripreso a frequentare una sua ex. Almeno così riporta il mondo del gossip, rivelando un incontro tra il 34enne e Gilda Ambrosio. I due avrebbero trascorso una serata romantica, conclusasi con una cena presso il ristorante Casa Tobago di Milano. Pur non avendo mai confermato la loro relazione, in passato si era già parlato con insistenza di un flirt tra l'ex ballerino di Amici e l'imprenditrice e influencer napoletana. Stefano è stato pizzicato in diverse occasioni in compagnia di Gilda. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si conoscono dal 2017, alimentando fin da subito voci e rumor sulla natura del loro legame. Il conduttore ha sempre etichettato la loro relazione come una splendida amicizia. Con lei ho un'empatia fortissima e non voglio che diventi amore, perché l'amore di coppia finisce sempre, aveva dichiarato il 34enne parlando di Gilda. La vicinanza tra i due ha portato a speculazioni sui social riguardo alla possibilità che Gilda possa essere una delle famose, dodici amanti, di De Martino, di cui Belen Rodriguez ha parlato durante un'intervista a Domenica Inn.